Oggi parliamo del Focus On di luglio 2021. Iniziamo! Amici, bentornati sul canale, bentornati sul Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. Come ormai, penso questa sia il terzo anno, come ormai ogni estate, parliamo di un Focus On. Vi avevo chiesto di parlarmi, o meglio, di propormi dei nomi tra attori, attrici e registi. E nella categoria attori erano fuoriusciti i nomi di David Tennant, Hugo Weaves e Anthony Hopkins. A vincere tra il sondaggio fatto su Telegram e quello su Instagram è stato proprio Anthony Hopkins. Però prima di parlare e di vedere se era fattibile intraprendere la strada di Anthony Hopkins, ho dovuto vedere se online erano disponibili abbastanza film sulle piattaforme streaming non pirata, quindi quelle ufficiali, quelle a pagamento, e alla fine sono riuscito a trovare abbastanza film di questo attore per poterne parlare. Come al solito questo video non è sponsorizzato, quindi utilizzo e vi propongo le piattaforme che uso anche io, ovviamente però sempre parlando di film, non con la tariffa aggiuntiva. Quindi stiamo parlando di Netflix, Amazon Prime, Tim e Disney+. Per cui oggi parliamo proprio di questo attore e lo facciamo prima con una piccola biografia come al solito e poi ovviamente con i suoi film. Philip Anthony Hopkins è nato a Margam, nei Galles, il 31 dicembre 1937. Ha frequentato la Codridge e a causa della sua lieve dislessia ha assunto un atteggiamento molto schivo e introverso. Quando poi si è avvicinato al teatro si è reso conto che riusciva probabilmente a essere molto più intraprendente rispetto alla vita di tutti i giorni e infatti ha deciso che il teatro doveva far parte assolutamente della sua vita. È passato da diverse accademie, leggo ad esempio la Welsh College of Music and Drama, poi è passato alla Manchester Library Theatre, alla Nottingham Repertory Company, fino ad rientrare finalmente quindi alla Royal Academy of Dramatic Art. E di lì quindi al National Theatre nel 1965 ed è solo di due anni più tardi il suo esordio cinematografico con Il Bus Bianco di Lindsay Anderson. Nel 1968 lo vediamo già al fianco di Peter O'Toole interpretando Riccardo Curdi Leone e con Catherine Hepburn con Il Leone d'Inverno. Da quel momento per cui la carriera di Anthony Hopkins fu veramente densa carica di lavori che si sono succeduti in continuazione di lì fino ai giorni nostri. A sancire in realtà il suo punto più alto nella carriera e che quindi lo ha fatto conoscere a livello mondiale è il film dedicato al personaggio letterario di questo psicologo cannibale Hannibal Lecter nel 1991, film che poi ha visto sia un seguito che un prequel ma lo vediamo dopo. Nel 92 interpreta anche Abram Van Helsing in Dracula di Bram Stoker diretto da Francis Ford Coppola e lo vediamo in una continuo saliscendi di ruoli in film più o meno lunghi in parti più o meno corpose ma in ognuna di queste riesce a dare sempre il meglio di sé e ora vediamo anche fino a che punto questo attore si è spinto nella sua carriera. Purtroppo come vi ho detto la filmografia è molto limitata seppur ce ne sono molti di film vi lascio poi il link qui sotto quando pubblicherò anche la recensione scritta in modo che è più facile per voi seguire quello che dico. Comunque sia non tutti i film sono disponibili soprattutto i più datati e questo è un peccato perché speravo di vedere un Anthony Hopkins molto più giovane così da confrontarlo. Purtroppo questo non è possibile per cui il primo film che ho potuto vedere è Un uomo in guerra del 1990. Come sempre vedrete anche copertina e titoli dei vari film in modo che sapete di cosa parlo. In questo film ci troviamo in Paraguay dove il medico protagonista dedica la sua vita agli ultimi, ai più sofferenti con questa sua clinica aperta appunto ai più poveri. Ogni volta però che si sposta negli Stati Uniti d'America non perde occasione per parlare male del governo paraguaiano ed è così che questa storia mi ha ricordato molto il film Sulla mia pelle che racconta i fatti di Stefano Cucchi perché purtroppo il regime del Paraguay mantenuto su dal dittatore Alfredo Streisner dava una certa libertà di movimento alla polizia ed è così che uno dei familiari di questo dottore passa un brutto guaio mettendo così a rischio tutta la famiglia di questo medico. La storia come si capisce è tratta da una storia realmente accaduta e la cosa interessante di questo film è il fatto anche che me l'abbia fatto ricordare le vicende di Stefano Cucchi non per quello che li accomuna perché i casi giudiziari sono diversi però quello che mi ha dato tanto da pensare è la reazione del capofamiglia o comunque di questa famiglia rappresentata in questo caso da questo dottore. Una reazione nella quale all'inizio sembra molto lontano quasi freddo duro rigido su quella che è accaduto non voglio fare spoiler quindi vado avanti per cui è interessantissimo vedere il cambiamento quando in pratica quest'uomo realizza quello che è accaduto la perdita a cui è questa cosa mi ha lasciato veramente di stucco facendo sì con l'interpretazione di Anthony Hopkins che la reazione di quest'uomo sia molto veritiera molto forte potente le reazioni di quest'uomo il comportamento di quest'uomo da che erano distaccate quasi sulla difensiva si buttano immediatamente su una reazione possiamo dire emotiva che però non lo bloccano se non nell'ultimo momento che sembra giunto al tracollo anche emotivo oltre che psicologico e fisico ma che sicuramente ci presentano un uomo che dà voce a quella che è la cronaca del tempo che sicuramente come abbiamo visto purtroppo per i nostri casi di cronaca non è lontana dai giorni nostri. Nel 1992 invece partecipa alla film Dracula di Bram Stoker con regista Francis Ford Coppola e lo vediamo quindi nei panni di Abraham Van Helsing. La storia inizialmente devo dire la verità sembra molto fedele a quella del romanzo di cui abbiamo già parlato vi lascio i riferimenti se volete però man mano che si va avanti ovviamente prende dei toni differenti anche le reazioni dei personaggi la caratterizzazione dei personaggi sono alquanto differenti probabilmente sarà il periodo storico probabilmente sarà l'interpretazione del regista ma c'è una tensione alle tensioni sessuali dei protagonisti ben diversa da quella ad esempio raccontata proprio dal dallo scrittore Stoker ma non è questo solo quello che cambia cambiano anche appunto i personaggi e tra questi proprio Abraham Van Helsing questo professore che sembra essere più un santone in questo film poco professore diciamo così che ha delle reazioni molto borderline non riesco a capire per quale motivo questo personaggio in ogni sua interpretazione cambia è un peccato perché mi aspettavo un qualcosa di un po più fedele alla natura originale della della storia però purtroppo non è così probabilmente come dicevo rimane fedele come narrazione a quella più favorita all'epoca per cui è un adattamento e come tale ce lo dobbiamo tenere e in questa parte di personaggio un po borderline Anthony Hopkins devo dire la verità non risalta tanto quel che resta del giorno 1993 possiamo dire che è quasi una malinconica anticipazione di quello che abbiamo poi imparato a vedere con Downton Abbey anche questo ve lo lascio in riferimento perché ne ho parlato sia del telefilm che del film ma in questa storia in questo film che è veramente meraviglioso troviamo Anthony Hopkins nei panni di un maggiordomo tale James Stevens che quindi gestisce e custodisce la magione di Darlington Hall siamo a cavallo tra il primo dopoguerra e un po l'inizio dei moti che porteranno alla seconda guerra mondiale e ovviamente siamo in Inghilterra il suo datore di lavoro il nobile che appunto è proprietario di questa magione sembra lasciarsi troppo influenzare da quelli che sono appunto i movimenti i moti e i pensieri che arrivano dalla Germania e purtroppo questo è uno dei motivi per i quali questo nobile decade non solo all'interno dei suoi pari ma proprio all'interno della società stessa tanto che deve lasciare tutto vendere perché è andato in disgrazia a sostituirlo vi è uno che se ho capito bene di sangue nobile non ne ha però il maggiordomo di Darlington Hall rimane quello e infatti il signor Stevens su mandato del suo nuovo padrone deve andare a recuperare un poco di manovalanza all'interno di questa casa per ripristinare un poco quello che era il lusso o quantomeno lo stile di vita prima di questa brutto scivolone e la storia si sviluppa in questa maniera con una specie di viaggio che il maggiordomo fa per recuperare la governante che un tempo lavorava lì ma allo stesso tempo il viaggio si fa anche come sotto forma di flashback nel passato di questa magione soprattutto nel passato di questa relazione che c'era tra il maggiordomo e la governante il modo compassato austero vigile con il quale quindi questo maggiordomo viene interpretato sembra dare un po le basi a quello che sarà poi il maggiordomo Carson di Downton Abbey e la cosa mi ha fatto molto piacere e devo dire la verità in questa parte Hopkins sembra calarsi veramente tanto da molto sia come fisicità ma anche come personalizzazione di questo personaggio come caratterizzazione un personaggio molto legato alle tradizioni che non vuole non riesce a esprimere quindi il proprio pensiero i propri sentimenti perché è legato a un'austerità una rigidità di etichetta e protocolli che sembrano trasformarsi e trasferirsi quindi anche nella vita di tutti i giorni nella vita privata veramente è un film che mi è piaciuto molto morti di salute del 1994 io l'avevo visto che ero un adolescente ma non lo ricordavo meglio ricordavo una cosa un po più particolare che qui non starò a dire ma comunque è la storia del signor Kellogg questo personaggio realmente esistito ma in questa vicenda preso a pretesto quindi chissà quanto c'è poi di veritiero sotto penso poco e niente comunque quest'uomo che ha inventato i fiocchi d'avena in pratica i fiocchi cereali quelli della prima colazione ed è alquanto fissato con il fitness e la salute per cui apre questo centro nel quale riabilita la salute fisica e mentale dei suoi clienti ed è maniacalmente fissato quindi con il benessere anche in questo caso la commedia grottesca riesce a dare una visione della psicologia possiamo dire umana soprattutto quando questa sembra fissarsi su certi concetti e su certi stili di vita certe idee che caratterizzano poi anche i personaggi personaggi soprattutto quello interpretato appunto da Hopkins il signor Kellogg che vediamo interpretato con una forza incredibile perché tutta questa fissazione con appunto il benessere fisico e mentale si trasmette in questo personaggio attraverso un'espressione un'impostazione della faccia soprattutto dei denti e degli occhi veramente impressionante sembra passare quindi attraverso questo sguardo e questo modo così compassato di essere e poi scoppiare all'improvviso in reazioni assurde e sconsiderate passa in tutto questo quindi quella l'essere di nuovo borderline che però Hopkins riesce a trasmettere veramente molto molto bene in maniera anche molto veritiera nonostante appunto il grottesco e il fatto che la storia sia condita da una certa ironia mi ha fatto molto piacere rivedere questo film perché ne avevo un ricordo diverso invece l'ho riscoperto e quindi è una conquista del 1995 gli intrighi del potere è un film lunghissimo pesantissimo impegnatissimo e ho avuto tante tante difficoltà a seguirlo infatti faccio mea colpa faceva estremamente caldo l'ho dovuto vedere in tre step diversi perché mi addormentavo non ho le conoscenze storiche per poterlo inquadrare per cui mi è diventato un po ostico da seguire la vicenda riguarda Nixon il 37esimo presidente degli stati uniti d'america e soprattutto prende a pretesto quello che è stato lo scandalo dell'epoca ossia il caso watergate che io pensavo fosse qualcosa legato all'acqua e invece non è così ma è il nome dell'albergo nel quale quindi i fatti sono avvenuti e i fatti sono legati a quello che era il sistema con il quale anche attraverso le intercettazioni fatte nella casa bianca si sono scoperti gli interessi dietro una eventuale seconda candidatura di Nixon per un secondo mandato come presidente degli stati uniti dietro a tutto questo ovviamente si scopre tutta una serie di eventi e fatti perché la storia fa un enorme flashback all'indietro per capire chi è Nixon come sia arrivato quindi alla politica e a essere l'uomo più importante d'america l'interpretazione di Hopkins in questo caso è veramente stratosferica sicuramente aiutato da una protesica facciale però le espressioni facciali la riuscita di questa protesi facciale in alcune scene soprattutto a livello fotografico non rende sembra abbruttirlo però sostanzialmente è un attore che è riuscito in questa parte a dare vita di nuovo a Nixon le differenze fisionomiche sono evidenti però riesce veramente tanto a ridare vita a un uomo alla sua gestualità alle sue espressioni è veramente disarmante non mi aspettavo di vedere tanta cura tanta attenzione per questi dettagli e invece le reazioni il modo di rispondere di girarsi di guardare di sorridere un po forzatamente di entrare nelle discussioni o il modo con il quale uscirne io sono sconvolto e questo fa capire ancora la bravura di questo attore l'urlo dell'odio del 1997 è la storia di Charles Morse un miliardario di mezza età che accompagna la giovanissima moglie in Alaska per un set fotografico tenuto dal suo amico Bob Green ed è questa la storia che parte in realtà con l'arrivo in Alaska e che inizia un percorso in discesa un percorso di distruzione autodistruzione che porterà quindi a una serie di tragici eventi tutti guidati partoriti e messi su da quella che è l'odio e l'invidia per la ricchezza di quest'uomo un uomo che però sostanzialmente non sembra essere raccontato come un potente ricco che se ne sta per i fatti suoi che non elargisce non condivide più che altro è un'invidia che trasversalmente viene indirizzata verso quest'uomo per cui la deve pagare ancora una volta quindi Hopkins smaschera tutto il piano che c'è dietro le azioni dei suoi amici per fargliela pagare tramite l'interpretazione di questo Morse che anche in questo caso dicevo è molto compassato tranquillo forse un po' racchiuso in una bolla di incoscienza e ingenuità perché ormai avanti con l'età ma che poi riesce nonostante il fatto che i ricchi sono sempre raccontati con questo stereotipo che tutto gli è dovuto e che non fanno nessuno sforzo nonostante questo in realtà riesce questo personaggio con questa fisicità così lenta e cadenzata e questo modo di essere così pacato a avere una resilienza incredibile ad affrontare le difficoltà che questa strana sessione di fotografia lo costringe a vivere amistad del 1997 è tratto da una storia vera perché qui viene condensato quello che un poco sono i prodromi della guerra civile americana nel conflitto che vede separati il nord e il sud america sul tema dello schiavismo perché amistad è una nave che tenta di conquistare una nave di schiavisti spagnoli provenienti dall'africa e diretti quindi in america per conquistare appunto questi uomini e donne e bambini questi che dovrebbero secondo la mentalità dell'epoca essere schiavi decidono invece di rivoltarsi contro questi schiavisti e quindi si prendono possesso di questa nave amistad tentando di ritornare a casa vengono però traditi e quindi arrivano comunque in america dove viene messo su questo tribunale e quindi parte il vero e proprio viaggio di liberazione di questi uomini che non sono schiavi e per riuscire a mettere luce in chiaro questo nonostante si respiri tanto il pericolo di una guerra civile su questo argomento viene messo in mezzo l'ex presidente degli stati uniti d'america john quickie adams siamo quindi nel 1839 e quest'uomo invece di stare in pensione tiene sempre un occhio su quella che sono i fatti attuali del suo paese e viene quindi proposto per difendere questi pseudo schiavi mettendo quindi in luce la situazione americana storia veramente incredibile nella quale ancora una volta anthony hopkins è sullo schermo per pochissimo tempo ma nonostante questo riesce a dare un'interpretazione a questo personaggio molto in là con gli anni che quindi funziona molto molto bene è molto concreto molto vero e poi ovviamente siamo indietro nel tempo anche i suoi modi di fare di comportarsi la gestualità il modo di parlare sono molto efficaci funzionano veramente bene vi presento joe black del 1998 in questo film vediamo hopkins affiancato da un giovanissimo brad pitt qui lo dico e non lo nego io non lo sopporto brad pitt e questo film è l'eccellenza di questo attore perché lo rappresenta per quello che mi stanno mangiando vivo gli insetti lo rappresenta per quello che è perché è uno stoccafisso con una mono espressione facciale e non cambia assolutamente in tutto il film è il tipico belloccio senza grande capacità attoriali che sta lì proprio perché è belloccio ma è vuoto è una cosa che non sopporto ma protagonista di questo focus on è anthony hopkins per cui andiamo su di lui e questa volta interpreta un altro miliardario il signor bill perish che è prossimo ai suoi 65 anni ma allo stesso tempo con la sua società è prossima a vendere una ramo editoriale a un'altra azienda con l'arrivo della morte impersonata quindi da brad pitt film cui mia sorella è ancora molto legata inizia a prendere coscienza in maniera diversa di quella che è la propria vita e di quello che è stato il suo percorso e soprattutto di quello che lascerà dietro di sé dopo che la morte lo prenderà con sé storia incredibile su questo aspetto molto metafisica che però sostanzialmente non mi sembra dire granché probabilmente arrivati a un certo punto ci si concentra troppo su quella che è l'esperienza terrena della morte o meglio di morte anziché invece vedere l'evoluzione e di dedicare più tempo all'evoluzione e alla trasformazione di questo bill perish nonostante questo però il viaggio mentale psicologico del protagonista lo vediamo concentrarsi nelle espressioni di anthony hopkins che ancora una volta prende le parti di un miliardario e quindi di un uomo compassato che è conscio e consapevole delle sue possibilità e di quello che ha a disposizione di quello che può fare e poi si ritrova completamente capovolto in questa nuova realtà che gli è prossima purtroppo però viene dato veramente secondo me poco spazio a questa evoluzione e quindi la cosa finisce lì siamo nel 2001 con Hannibal in realtà speravo di elencare anche il silenzio degli innocenti nel quale anthony hopkins è presente per soli 23 minuti e riesce comunque a dare un personaggio di questo psicologo cannibale con una credibilità e un fascino impressionanti volevo parlarvi anche di lui ma purtroppo non è in nessun catalogo almeno al momento in cui sto registrando in cui è uscita questa puntata chi lo sa se le cose cambieranno non lo è gratuitamente ma se non sbaglio su alcuni lo è a pagamento per cui l'ho dovuto togliere dall'elenco comunque sia Hannibal è il secondo capitolo di questa storia che vede come protagonista Hannibal Lecter che esce di galera e arriva quindi a Firenze a Firenze però entra in contatto con un poliziotto e questo poliziotto intreccia le indagini dell'fbi che sono appunto intente nel cercare ancora Hopkins o a Lecter Hopkins senti a me nonostante l'età ancora una volta Hopkins riesce a dare vita a questo personaggio in maniera molto veritiera vediamo solo sul finale di questa storia la vera natura di un cannibale il suo vero comportamento quando appunto apre la scatola cranica di uno degli agenti dell'fbi e soprattutto nella scena finale in cui offre questo pasto a un bambino però quello che appunto è impressionante rimane della sua natura rimane concentrato sul finale prima ancora passa il mistero di questo personaggio la sua capacità quasi rettiliana di essere attento vigile cosciente consapevole di quello che gli sta attorno però in poche scene prima nel silenzio degli innocenti solo 23 minuti in poche scene Lecter o meglio Hopkins sto iniziando a fare confusione Hopkins riesce a rendere credibilissimo un personaggio che sostanzialmente sembra quasi assurdo e impossibile vedere nei giorni nostri e invece ci riesce con una potenza assurda tutto questo ovviamente ritmato con un incalzante sceneggiatura che non fa altro che sottolineare ancora di più la forza e la capacità di questo personaggio e del 2002 è red dragon questo film nel quale Hannibal viene utilizzato come contatto come collaboratore nell'indagine dell'agente will graham alla ricerca di un nuovo assassino e questo viene chiamato il lupo mannaro perché appunto uccide solo durante la luna piena ancora una volta Hopkins è limitato o meglio Lecter è limitato all'interno di uno spazio ristretto che è quello della cella ha ben poco movimento a disposizione per esprimersi ma nonostante questo favorito dalle inquadrature riesce a trasmettere tutto il carisma tutta la pazzia e la follia del personaggio attraverso gli occhi attraverso quelle poche battute che ha a disposizione attraverso il modo con il quale si relaziona con i personaggi cosa ancora più impressionante probabilmente che dà ancora più forza a tutto questo è il fatto che sul finale si comprende e si scopre che il film è nient'altro che il prequel di il silenzio degli innocenti per cui iniziamo a mettere ancora più ordine nella vita di quest'uomo di questo cannibale storia incredibile che avevo visto da ragazzino che mi ha fatto veramente piacere poter rivedere perché dà ancora più profondità al personaggio nonostante in realtà non sia lui il protagonista patto con il diavolo del 2007 è la storia di un uomo uno scrittore molto invidioso del successo degli altri che non è contento né della sua vita né della sua carriera nonostante il primo e unico libro che gli hanno pubblicato è andato una bomba decide quindi di fare un patto con un diavolo e mentre tutti quelli di cui era invidioso e geloso cadono nel fallimento lui inizia la sua ascesa per il successo in questo film scopriamo anche quali sono le cose che in realtà muovono l'editoria nel gran parte dei casi e il modo così spassionato con il quale ci viene raccontato non fa altro che dare veridicità alla storia che altrimenti sarebbe forse troppo superficiale in realtà è alquanto superficiale perché mentre tutti quanti sembrano coinvolti in questo patto pagando nelle conseguenze il capo editore della casa editrice webster in realtà no anzi sembra cosciente di quello che questo scrittore ha combinato e inizia quindi a aiutarlo difendendolo in una specie di tribunale infernale perché ha il suo proprio tornaconto in testa purtroppo però la sceneggiatura è talmente semplicistica che appunto non va in profondità l'intreccio è molto semplice si sbroglia in pochissimo tempo in poche battute per cui in realtà il personaggio di hopkins non viene visto sviscerato comunque caratterizzato tanto e infatti semplicemente posso dire che qui hopkins è quasi sprecato quella sera dorata omar rasaghi è un ricercatore universitario che deve scrivere la biografia di uno scrittore jules gund che vive in uruguay o meglio viveva in uruguay per cui visto che la famiglia non è intenzionata a dargli il permesso di scrivere questa biografia li raggiunge spinto dalla ragazza così arriva in uruguay dove trova quindi il fratello di lui la moglie dello scrittore l'amante dello scrittore e la figlia di lei hopkins qui interpreta la parte proprio del fratello di questo scrittore questa è la prima volta che lo vedo nei panni di un omosessuale ma quello che qui è importante non è il fatto che sia gay perché veramente passa possiamo dire in secondo piano non è l'elemento che lo caratterizza particolarmente ma è un elemento che possiamo dire lo contraddistingue perché per la prima volta non viene stereotipato come gay questo personaggio non fa nulla di particolare non si comporta come appunto vediamo in giro personaggi del genere ma anzi ha un'attenzione particolarissima a quello che sono i suoi interessi a quello che è un po il passato perché appunto è custode della storia della famiglia quello che quindi hopkins in questo personaggio riesce a trasmettere è il modo affettato pacato coinvolgente quasi distaccato dovuto forse all'età che riesce a dare di questo personaggio è un'interpretazione tra le più naturali di questo attore molto ben riuscita che alle volte mi ha fatto anche molto sorridere per le reazioni i sorrisi gli ammiccamenti che riesce a dare sulla pellicola incontrerai l'uomo dei tuoi sogni di Woody Allen questo è veramente un film che ha tutto il sapore della regia e comunque della scrittura di Woody Allen perché incontriamo dei personaggi che hanno una rottura relazionale hanno dei problemi nel relazionarsi l'uno con l'altro e quindi di conseguenza rovinano un po la vita agli altri hopkins stavolta è un uomo divorziato che pensa di trovare così la giovinezza in uno stile di vita diverso da quello in cui è stato costretto fino a quel momento cerca quindi un po questo riscatto di tornare indietro nel tempo addirittura pagando l'amore di una donna convincendola a sposarlo pagandola così hopkins riesce a dare in questo personaggio tutta un po la criticità di queste crisi di mezza età che coinvolgono molte persone e soprattutto la tragicità di quella che è un po l'illusione di riuscire a vivere e a di staccarsi dai problemi dalle frustrazioni abbandonando tutto quello che si è costruito fino a quel momento per voltare pagina quando in realtà non è così perché come le cose vanno storte il personaggio torna un poco sui suoi passi trovando ovviamente poi le porte chiuse perché nel frattempo tutti quelli a cui con questi gesti aveva fatto male hanno tentato in modi tutti propri e particolari di ricostruirsi una vita questa nota così autodistruttiva e benefica è trasmessa dall'interpretazione di hopkins in maniera ottimale e ci riesce talmente tanto bene che non so se apprezzare questa recitazione o detestarlo per il risultato così veritiero che ottiene il rito 2011 è la storia di un ragazzo che non sa che cacchio combinare tutta la vita per cui annoiato decide di sfidarsi e così decide anche di entrare in seminario in realtà lui non crede però decide di farsi prete e nel suo percorso di studi la sua diocesi in america decide di portarlo in italia a roma per un corso di aggiornamento sull'esorcismo e qui che viene affidato alla guida di don lucas interpretato quindi da anthony hopkins un sacerdote molto molto anziano vecchia scuola che vive isolato in una parte molto abbandonata di roma e che dedica la sua giornata e la sua missione a fare esorcismi tralasciando il fatto che questo esorcismo che viene raccontato c'ha molti errori nonostante sia ispirato a una storia reale e il mio sacerdote il mio parroco è esorcista della diocesi per cui mi ha dato anche ragione che è sbagliato il rito però comunque è il modo un po americano di raccontare le cose senza attenersi ai fatti ma perché deve entusiasmare deve colpire e quindi questo rito è un po lasciamo stare però la cosa bella di questa di questa interpretazione di hopkins è il fatto che interpreta un uomo quasi abbandonato poco interessato a quello che gli sta attorno vive in una casa molto povera possiamo dire anche quasi sporca abbandonata a se stessa probabilmente anche malato a poca cura di sé di quello che lo attornia e anche a dei modi molto rudi non solo con le persone ma poi ovviamente anche con gli spiriti che deve esorcizzare è un modo così imbruttito ma anche molto umano con il quale raccontare una persona così poco gentile molto spicolosa che però riesce molto bene a un hopkins che in quel film che io pensavo molto più attuale molto più recente è un hopkins che passa molto anziano come se fosse invecchiato veramente di colpo e il fatto che ci sia così cascato mi fa capire che è riuscito probabilmente nel suo intento il film è interessante però bisogna come sempre prenderlo un po per le pinzette raccolgo qui la filmografia che è interessato hopkins avvicinandolo quindi al mondo marvel parliamo quindi di thor del 2011 thor the dark world del 2013 e thor ragnarok del 2017 perché in realtà hopkins qui non ha una vera e propria parte così ampia perché appunto il protagonista è il figlio di thor è il figlio di odino thor il figlio di thor è il figlio di odino e infatti hopkins qui fa odino se nel primo film ha una parte alquanto importante all'inizio e alla fine perché deve dare un po' la un flashback e nel terzo viene interpretato prima da loki e poi lo vediamo semplicemente nel momento in cui è sulla terra in norvegia e muore e solo come ormai nella tradizione filmografica di hopkins solo in quella parte in cui muore nel momento in cui sta morendo fu riesce tutta la bravura la compassione la capacità di legarsi con lo spettatore di questo attore poi ovviamente il protagonista di questi film non è odino e quindi andiamo avanti passioni e desideri questo film lo dobbiamo vedere un po' come se fossimo in un aeroporto e le persone che vanno avanti e indietro si incrociano tra loro come se non avessero nulla in comune nessuno o niente li leghi tra loro e poi scopriamo man mano che in realtà magari si sono visti e incrociati in precedenza questo film diciamo che è un po' così parte infatti la vicenda da un uomo che non è soddisfatto del suo lavoro non riesce a sfondare come scrittore da una moglie che è insoddisfatta del matrimonio perché non riesce ad avere figli e si concentra sulla sua carriera per poi allungarci su un padre che ha perso la figlia che fa il giro del mondo di obitorio in obitorio per capire ogni volta se la figlia è morta o se è ancora in giro dispersa la parte che fa hopkins è proprio quella di questo genitore e effettivamente in un aeroporto si svolge gran parte della vicenda a metà del film infatti i personaggi a inizio della storia sembrano in un modo o nell'altro confluire e intrecciarsi con quelli che poi arrivano in questo aeroporto per poi giungere alla fine devo dire la verità in questa parte hopkins è molto affranto molto stanco affaticato lasciato addirittura dalla moglie perché troppo fissato sul voler ritrovare la figlia sembra ormai vivere un poco per inerzia e tutto questo peso questo affaticamento riesce a trasmetterlo benissimo però poi la storia effettivamente non riesce a concludere la linea narrativa di dei vari personaggi per cui è come se fosse quasi un po per tutti o per la maggioranza di questi un nulla di fatto 2012 Hitchcock forse il mio film preferito di questo attore perché questa volta hopkins grazie a una protesica facciale e sotto ai vestiti riesce a interpretare il regista famosissimo alfred Hitchcock al meglio di sé io sono molto legato a questo regista perché durante le medie facemmo il nostro primo cineform nella biblioteca scolastica biblioteca una stanzetta era per cui in pratica i primi film che abbiamo visto sono stati proprio psycho e la cosa mi è piaciuta terribilmente e infatti il film prende a pretesto la produzione di psycho per raccontare invece la biografia di Hitchcock e lo fa in una maniera incredibile perché fu riuscito dal successo di intrigo nazionale nessuno vuole che il prossimo film di Hitchcock sia un fallimento per cui nessuno crede nel progetto psycho ed è costretto a impegnare la propria casa a stringere la cinghia perché ci mette i soldi di tasca propria in tutto questo processo così pericoloso rientra ovviamente la moglie sempre al fianco del marito che però in questa narrazione viene appunto approfondito a questa rottura tra i due questo attrito che fa così fare due percorsi diversi ai due colleghi e compagni di vita fino a una conclusione e la conclusione è straordinaria perché è coinvolgente è invitante e trascinante ogni membro del cast infatti è stato preso quanto più fedele a quelli che sono stati quindi gli attori originali di psycho ma quello che mi ha impressionato in maniera assurda incredibile è proprio l'interpretazione la gestualità l'espressione facciale di hopkins un attore meraviglioso sconvolgente che in questo personaggio riesce a dare veramente il meglio di sé io mi sto esaltando passiamo avanti anzi speravo di trovare il funk o pop non sono riuscito a trovarlo per cui se riuscite a farmi questo regalo sono contento nel 2015 esce il caso di fred heineken il famoso inventore della birra heineken che appunto viene come conosciamo dalle cronache dell'epoca rapito per chiedere un riscatto io sinceramente non lo sapevo ma di birra non ne capisco niente poi ovviamente la storia è ambientata nel 1982 e io all'epoca non ero ancora nato quindi chi se n'è comunque il protagonista è quindi heineken interpretato ovviamente da anthony hopkins che viene rapito da una banda capeggiata da corvan haught quest'uomo che ha una grandissima capacità strategica che mette quindi su un piano con il quale rapire quest'uomo per farsi dare un sacco di soldi come abbiamo visto in precedenza nelle parti del riccone anche in questo caso hopkins è molto compassato perché conscio e consapevole delle sue possibilità e del fatto che i suoi collaboratori cooperino per liberarlo quanto prima possibile inizialmente il personaggio è molto pacato tranquillo affettato affabile poi arriva un momento nel quale scatta a dei veri e propri cambi di umore di espressione di modo di comportarsi che lo rendono molto veritiero molto umano e riesce così a mettere un'agitazione addosso sia il personaggio che i buchi e le falle di questo piano gli errori dei vari componenti di questo gruppo che mettono quindi un'agitazione una sana agitazione addosso che riesce quindi un po' a sedarci a sedare la nostra parte razionale e a coinvolgerci quindi all'interno di tutta la pellicola premunition stavolta hopkins fa la parte di uno psicologo che ha una capacità precognitiva e per lungo tempo ha collaborato con l'fbi stavolta è chiamato nuovamente a collaborare con il suo amico joe meriwether perché una serie di omicidi continuano a non trovare il colpevole quest'uomo vive in isolamento proprio perché ha un passato di cui non vuole parlare e la sua capacità lo fa soffrire molto nascosto in questo isolamento dal mondo passa un po' tutta la sofferenza di questo personaggio e il modo così tranquillo e pacato con il quale si mostra agli altri inizialmente ne dà molta credibilità quando poi inizia la vera e propria indagine e lui inizia quindi anche a percepire la realtà non detta la narrazione prende un'intensità e un ritmo veramente incredibili nonostante ovviamente sia difficile credere alla precognizione un po' la recitazione di hopkins un po' il ritmo e la tensione di questo film riescono a farci sospendere la nostra incredulità e a farci anche in questo caso trascinare nella narrazione e soprattutto quando poi incontriamo questo assassino scopriamo poi un po' il dietro le quinte della vita del personaggio interpretato da hopkins mostrandoci come questi due lui e l'assassino siano molto affini tra loro quasi rappresentandoceli sul finire della vicenda come quasi due angeli della morte go with me dopo la morte della madre lilian decide di tornare nella città dove è nata nella casa dove ha vissuto purtroppo però nel frattempo in città è salito diciamo al potere un deficiente un bastardo un mafioso il signor blackway che non le dà pace qui entra in gioco quindi tutta la testardaggine di questa ragazza che decide di avere giustizia dallo sceriffo che però non è intenzionato a darle una mano la indirizza a dei boscaioli e così entrano in scena hopkins e alexander ludwig faccio una piccola parentesi su questo alexander ludwig che la maggior parte di noi probabilmente conosce per l'interpretazione di bjorg in vikings ne abbiamo parlato almeno in tre puntate di questo personaggio e per la prima volta conoscendo anche la fisicità di questo attore il fatto che è stato tanto spinto proprio per la sua fisicità per la prima volta e sono contento di questa cosa il personaggio l'attore non passa per quello non si vede un lembo di pelle di questo ragazzo e la cosa è interessante perché finalmente viene dato spazio alle capacità attoriali e non a quelle fisiche tolta questa piccola parentesi il nostro hopkins fa la parte di lester un anziano boscaiolo che ha tutto il suo interesse segreto e nascosto di affrontare quindi il signor blackway è un ometto che ha perso la figlia sembra non aver null'altro da perdere e sembra molto in cerca di una vendetta anche stavolta la pacatezza del personaggio si scontra poi con le reazioni improvvise borderline che ha e che quindi ce lo presentano quasi al contrario di come invece era all'inizio un film scorretto alle volte un po ripetitivo che dà vita quindi a un western moderno fatto di molti grigi di poche parole di molta azione che però si svolge quasi completamente non a cavallo ma in auto siamo nel 2016 e questa volta hopkins interpreta la parte del più famoso imprenditore tedesco di autotrasporti il signor agen kall in realtà però quest'uomo è immischiato nello spaccio di droga e di stupefacenti e infatti utilizza la sua azienda di autotrasporti per distribuire la droga in giro per l'europa uno dei suoi corrieri non è d'accordo sul fatto di non essere premiato abbastanza e decide così di derubare uno dei suoi auto articolati e lo lascia fare a uno dei suoi tocca infatti a casey questo ragazzo metter su un piano affinché quindi il colpo riesca questo film mi ha stupito molto perché la prima volta a mia memoria che vediamo hopkins che impugna una pistola e che spara come se non ci fosse un domani un hopkins così violento così possiamo dire bastardo non l'ho mai visto è molto deciso molto vendicativo e quella calma apparente tipica dei malviventi la riesce poi a sconvolgere con una velocità del grilletto che non mi aspettavo fa stranissimo vederlo in un atteggiamento del genere perché come al solito è rappresentato come un anzianotto per cui non ce lo si aspetta ma poi invece ha una grinta e una carica incredibili stupefacenti mo ci vuole transformers l'ultimo cavaliere film di michael bay del 2017 io ho sempre evitato di vedere i transformers perché non mi piacciono anche se da piccolo ci giocavo non mi piacciono non mi sono piaciuti questi film ma questo ho voluto dare una chance proprio perché hopkins non fa un cameo ma è attivissimo in questo film e fa la parte di un lord edmund barton diciassettesimo conte e ultimo tra i cavalieri dell'ordine dei witty wiccan custode quindi dei segreti di re artù merlino e dei cavalieri della tavola rotonda detto così ma stiamo parlando dei transformers sì perché qui c'è un crossover incredibile che nonostante i robottoni così non mi piacciono trasmessi sul grande schermo riesce a dare una profondità in più a questa storia perché intreccia quindi la mitologia inglese con appunto un'invasione aliena avvenuta proprio durante il medioevo inglese e questo personaggio interpretato da hopkins fa appunto da custode di questi segreti e ha una missione ed è in attesa che le cose avvengano è un personaggio molto forte trascinante ha anche un certo umorismo e saw affair tipicamente inglesi che però poi in realtà vediamo poco ancora una volta mi sarebbe forse piaciuto vederlo per più tempo un po più approfondito però come al solito hopkins anche in poco riesce a trasmettere tanto l'ultimo film disponibile gratuitamente è i due papi che però io già vi ho raccontato vi lascio il link in modo che non vi abbuffo ulteriormente vi dico solamente che è il caso in cui un meme online sui social riesce a dare io probabilmente lo dico in maniera sbagliata perché non sarà stato il meme a dare la parte a hopkins ma avrà giocato un ruolo fondamentale affinché questo attore entrasse nei panni di papa benedetto xvi come jonathan price entrasse quindi nei panni di papa francesco storia incredibile affascinante carica di mistero perché in realtà non dice granché sembra alludere sempre a qualcos'altro ma ve ne ho già parlato vi lascio i link in descrizione ma che comunque attraverso essere così anziano umano quasi possiamo dire sconfitto di questo papa interpretato da hopkins l'attore riesce a trasmetterci tantissimo e mi è piaciuto veramente molto come si è potuto vedere siamo ormai alla fine di questa puntata che secondo me sarà lunghissima mi scuso provo a togliere delle cose e altre le trovate sicuramente poi nell'articolo online ma come possiamo vedere anthony hopkins è passato nella sua carriera da un personaggio all'altro alcuni come stili molto ricorrenti perché appunto raccontano uno stereotipo mi scuso per il rumore della moto ma non mi posso chiudere dentro se no muoio ha quindi interpretato dei personaggi che si avvicinano tra loro vedesi i ricconi e soprattutto ha partecipato al film veramente molto lunghi impegnati e impegnativi come ad esempio quello di nixon e altri invece un po più leggeri veloci ma anche rivestito ruoli che poi si sono visti veramente poco abbiamo visto la parte di anibal nel silenzio degli innocenti e altri in cui era veramente il protagonista di tutta la vicenda una capacità attoriale incredibile e una capacità anche da trasformista perché lo abbiamo visto in personaggi molto lontani da lui e soprattutto facendo una ricerca su di lui ho scoperto che soffre della sindrome di asperger per cui la sua capacità nel riuscire a entrare in una vita che non è la sua nonostante quella sindrome e a renderla con una potenza così forte coinvolgente credibile mi ha sorpreso tantissimo e anzi ne approfitto per ringraziarvi per aver votato lui così da farmi riscoprire questo attore questa capacità questa bravura dei giorni nostri e spero come è stato attualmente proposto per gli oscar con il suo the father proprio quest'anno spero di vedere sempre sue nuove interpretazioni perché è uno dei pochi attori che riesce sempre sempre a sospendere la nostra incredulità e a trascinarci in quello che vuole mostrarci di quel personaggio di quella data storia quindi veramente sono molto sorpreso e compiaciuto e appunto vi ringrazio se voi avete visto altri film o qualcuno di questi avete la vostra da dire ditemela nei commenti qui sotto è un attore che avete scelto voi quindi condividete con me la vostra esperienza riguardo vi aspetto nei commenti qui sotto e ovviamente vi aspetto quando riuscirò a pubblicare perché sto recuperando sono almeno 60 articoli di ritardo sul sito quindi vi aspetto anche sul sito condividete la vostra ditemi cosa vi è piaciuto di questo attore cosa vi ha convinto delle sue interpretazioni qual è il personaggio meglio riuscito e quelli invece no e magari in quale film in quale parte lo vorreste vedere in futuro io vi ringrazio per la visualizzazione se questa puntata vi è piaciuta fatemelo sapere cliccando il mi piace condividendola con i vostri amici voi e i vostri amici iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto attivando anche la campanella al lato per ricevere le notifiche di pubblicazione mi trovate in tutti i social network che sono nell'info box qui sotto ma fate visita soprattutto a www.retratinocenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani io sono dario questa è recenso e noi ci vediamo l'ultimo venerdì di agosto sempre qui sempre su recenso con il prossimo focus on pronti a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia